Apriamo la pagina sportiva per Napoli-Eintracht dei mercoledì in Champions. Stop definitivo alla trasferta per i sostenitori di Francoforte. Troppo alto il rischio scontri tra tifoserie dopo l'andata. Vittorio Marotta. Dopo la prefettura di Napoli, anche il Tar della Campania, che pochi giorni fa aveva dato il via libera, ferma i tifosi dell'Eintracht-Francoforte, almeno quelli residenti nella cittadina, respingendo il nuovo ricorso del club tedesco. Il decreto pone l'accento sui nuovi profili di rischio emersi per la pubblica sicurezza. Le informative delle polizie italiane e tedesche e il monitoraggio di web e social avrebbero fatto emergere la possibilità di ulteriori scontri dopo quelli della gara di andata, anche a causa di un sentimento di rivalza in merito a quanto successo in Germania prima della partita. Nella giornata di domenica il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive aveva reiterato la valutazione di grave pericolo per l'ordine pubblico, connessa alla presenza dei tifosi dell'Eintracht a Napoli. La nuova decisione della prefettura, che limita il divieto di vendita ai soli residenti a Francoforte e non a tutti i tedeschi, è apparsa ai magistrati congrua sul piano della proporzionalità. Nell'ottica del bilanciamento degli interessi scritto nel decreto, deve trovare prevalenza all'interesse alla pubblica sicurezza.